Vorresti la maglietta del tuo giocatore preferito? Oppure ne vorresti una con nome e numero a tua scelta? Passa dal link in descrizione, prezzi convenienti, personalizzazione completa e consegna veloce. E inoltre col codice GG94 hai il 10% di sconto. Venite in tanti! Salve a tutti amici youtubers e bentrati dal vostro giocatore di Gioros94. Come tutti avrete ben notato, una delle squadre che è più attiva in questa prima parte di pre-calcio mercato, se così si può dire, è proprio la Roma. Monce infatti sta approfittando della liquidità ottenuta grazie alle semifinali di Champions e alla stessa qualificazione alla maggiore competizione europea per piazzare subito i primi colpi di questo calcio mercato, colpi che verranno ufficializzati il primo luglio ma che si possono considerare già fatti come Ante Koric, Ivan Marcano ed altri che vi spiegherò in questo video. Diciamo che questa prima di tutto è una tattica molto molto importante, soprattutto perché quest'anno il calcio mercato terminerà prima rispetto ai soliti standard. Di solito finiva il 31 agosto, quest'anno terminerà 12 giorni prima, quindi le squadre sono tutte obbligate a prepararsi prima per evitare di dover far colpi agli ultimi giorni di mercato. E tra parentesi per me questa è una scelta giustissima, perché per me è giusto che tutte le squadre inizino la prima giornata di campionato con tutta la rosa completa e già fatta, senza dover fare per forza acquisti dopo la prima giornata ufficiale. Detto questo ragazzi, allora, come avrete letto dal titolo, la Roma ha fatto un'offerta molto molto importante per due giovani talenti europei. Entrambi sono giocatori già seguiti da diverso tempo da Monci, uno di questi addirittura dal calcio mercato invernale. Poi alla fine non è stato ceduto nessuno e di conseguenza questo giocatore non è stato acquistato. Ma sembra che la Roma abbia fatto un blitz con l'Ajax per poter prendere, spendendo 50 milioni totali, Hakim Ziyech e Kluivert Junior. Di Kluivert già ne abbiamo parlato qualche settimana fa, ci ho fatto un video a riguardo e lo potete trovare qua sotto in descrizione o sulla mia playlist Parliamo di Mercato. Uno giocatore molto forte e talentuoso, classe 1999, esterno offensivo, capace di giocare sia sulla fascia destra che sulla fascia sinistra, che è in scadenza nel 2019 e che quindi l'Ajax vuole cedere per quantomeno prenderci quanti più milioni possibili, visto che lo stesso giocatore ha dichiarato di non voler rinnovare. Kluivert, come ho appena detto, è un obiettivo principale della Roma, che ha capito nella scorsa stagione quanto sia importante rivoluzionare o comunque cambiare non solo il centrocampo ma anche il reparto offensivo, visti i pochissimi gol segnati nella scorsa stagione, soltanto 61 in 38 partite complessive. Oltre a questo però, come vi ho detto, la Roma sembra intenzionata a voler prendere anche Ziyech dello stesso Ajax, valutato però 30 milioni di euro, non solo per il talento che ha mostrato il giocatore in campo, ma anche per il fatto che non è in scadenza e quindi l'Ajax può permettersi di fare il prezzo che vuole. Anche di Ziyech ne avevo parlato diverso tempo fa, addirittura nel periodo del mercato invernale, però vi faccio un riassunto in questo video senza per forza andarvi a cercare quello che avevo detto mesi passati. Ziyech è un giocatore molto giovane, molto talentuoso, capace di poter giocare bene su molti fronti offensivi, può essere messo come mezzala sinistra, come trequartista o all'occorrenza anche come esterno offensivo. Tutto questo grazie ad un piede molto educato che gli ha permesso di fare addirittura ben 15 assist nell'ultima stagione di Eredivise. Questo giocatore lo vorrei per un motivo principale, ha delle caratteristiche che nella Roma attuale non ci sono assolutamente, né davanti ma soprattutto dietro. Al centrocampo a noi attualmente manca quel giocatore talentuoso con i piedi buoni, capace di inventarti una giocata all'improvviso, anche di batterti le punizioni perché Ziyech è bravo anche a battere i calci di punizione. È un giocatore che a noi servirebbe come il pane, duttile al punto giusto, con un piede buono, capace di fornire tanti assist e tante belle giocate. È un giocatore che farebbe proprio al caso nostro e secondo me anche più dello stesso Cristante. Anche Cristante è molto vicino dal vestire nostra maia, anche di lui ne avevo parlato, ma se dovesse essere ufficiale ne uscirà ovviamente un video a riguardo. È un giocatore Cristante che a me piace, però c'è sempre quel rischio che abbia fatto quella classica stagione all'impazzata e non riesca più a farla a quei livelli. Più che altro mi viene da pensare questo perché Cristante soli due anni fa era panchinaro del Pescara e soli tre anni fa era panchinaro del Palermo e quindi non riesco ad essere particolarmente fiducioso su questo giocatore. È un giovane talento e sicuramente ha fatto benissimo nella scorsa stagione. Però se ci devo spendere 25 milioni e rischiare che magari mi fa il campionatino, quello tranquillo, da sé in pagella, allora preferisco puntare su altro, preferisco puntare su un giocatore che ha veramente del talento dentro di sé, almeno secondo la mia opinione. E quindi se dovesse scegliere tra i due giocatori, prenderei senza dubbio Ziyech. Se invece potessimo prendere Ziyech e anche Cristante, magari con la contropartita, se così si può dire, di Defrell, magari, che ne so, facciamo 10 milioni più Defrell, e sarebbe secondo me un prezzo congruo, considerando il valore dei Defrell e il prezzo con la quale l'abbiamo acquistato, allora se ne potrebbe anche parlare. Certo ci sarebbe sovrabbondanza a centrocampo e qualcuno sicuramente partirà, e Stotman è l'indiziato principale, però secondo me se dovessimo fare questi acquisti con la partenza del solo Stotman, saremo numericamente a posto e secondo me sarebbe un reparto accettabile per poter lottare, almeno dal punto di vista dei valori tecnici, per un posto al vertice del nostro campionato, perché sarebbe il giusto connubio di esperienza, qualità, quantità e tecnica. È un'operazione difficile, è un'operazione complicata, l'Ajax, sappiamo, è molto famosa per non cedere mai alla tentazione dei soldi facili, l'Ajax se ti deve vendere un giocatore te lo venderà per forza la cifra che vogliono loro, anche a costo di perdere la 0 la scorsa stagione, quindi è un'operazione complicata, però se si dovesse concretizzare per me riusciremo a prendere due giovani talenti, due giocatori molto molto forti secondo me, e ad un prezzo complessivo, soprattutto se pensiamo ai prezzi d'oggi, sicuramente molto buono, e neanche troppo elevato. Detto questo ragazzi, fatemi sapere nei commenti, voi cosa ne pensate del possibile arrivo a Roma di Clivert Junior e di Hakim Ziyech, un centrocampista e un attaccante per rinforzare la nostra rosa, ci vediamo presto per un altro video, un saluto e sempre e comunque, Forza Roma! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!